Parte prima. Uno. La prima volta che accadde pensò di essere stato scambiato per un'altra persona. Un sosia. Tutti ne abbiamo almeno uno, aveva sentito dire, e non ci aveva fatto caso più di tanto. Buonasera, monsignore. Lo aveva salutato una gentile signora molto elegante mentre stava facendo la consueta passeggiata vespertina. Le aveva rivolto un sorriso. Non gli sembrava di conoscerla. L'educazione gli imponeva di ricambiare il saluto. Per lui era un gesto piacevole, non un dovere. Monsignore, pensava fra sé, chissà per chi mi ha preso. Ridacchiò, mentre, avvolto nel suo lode nero, continuava a camminare. Metà novembre. Non era freddo. Fresco. Umido. Forse avrà pensato di vedere un altro, nella penombra. Forse sarà stata tratta in inganno dal colore del mio cappotto. Già il pensiero stava svanendo per lasciare il posto ad altri quando incrociò un uomo, abbastanza robusto e con un'espressione del viso rude e delicata al tempo stesso. Monsignore, si ricordi di me, gli disse. Dopodiché sgattaiolò nella foschia della sera, furtivo, senza neppure dargli il tempo di replicare. Si fermò per un istante. Anche se non era sua abitudine cessare il ritmo dei suoi passi, si arrestò. Ancora una volta. Monsignore, ma che era? E, fatto ancora più grave, non erano passati dieci minuti quando una donna, dalla postura e dall'espressione molto pia, incominciò a fissarlo da lontano. Non appena furono a meno di cinque metri di distanza, se ne uscì con un saluto che sembrava preso a prestito da un testo di catechismo preconciliare. Si è lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato, rispose meccanicamente, e anche quella se ne andò in fretta. Come si dice? Una coincidenza è soltanto una coincidenza, due coincidenze sono un indizio, tre coincidenze sono una prova. Che cosa stava succedendo? Si girò di scatto.